Ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto Io sono Emiliano, oggi appuntamento di metà giornata, questo perché? Perché stasera vi dico che saremo in live, in live su Twitch Trovate in descrizione il link al canale di Twitch Quindi se non l'avete ancora fatto vi invito anche a seguirmi su Twitch Facciamo queste live una, due volte a settimana sulla base anche un po' di come va il mercato Questa sera avremo da parlare abbastanza di questo trend, di questa settimana che si sta delineando Quindi vi invito appunto numerosi, la metterò in replica ovviamente su YouTube Però ovviamente l'idea di Twitch è quella di essere 100% in real time con voi Poter rispondere alle vostre domande, quindi è più utile farlo in live In modo tale che possiamo togliere dei dubbi che molto spesso hanno tutti E quindi andiamo a fare una cosa più collettiva Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale E mettere un bel mi piace a questo video Mi state aiutando veramente tanto con l'algoritmo Siamo già oltre i 1850 iscritti al canale Quindi numeri veramente, veramente importanti Di cui vi ringrazio sempre tantissimo Ma passiamo direttamente a quello che volevo dirvi in questa mezza giornata aspettando questa sera Ovvero Market Cap di mercato che ancora, ancora sta sui massimi E la riuscita a rompere nella notte addirittura è arrivata a 1.16 trillion Quindi estrema potenza, ok? Per quanto riguarda ancora la Market Cap complessiva di mercato Che vi ho detto essere molto importante per valutare la salute del mercato su cui stiamo lavorando Ed è uno dei indicatori fondamentali Quindi volevo farvi notare anche la Total 2 Total 2 che è addirittura ad un livello ancora più alto, più lanciato Registra un più 7.6 da quando, in questo momento in cui sto registrando Sulla Total Market Cap 2 che appunto è quella delle alz Quindi alz ancora on fire On fire e perché? Perché la dominance si mantiene, guardiamocela sull'orario Debole, molto molto debole, ok? Continuiamo però ovviamente a barcollare sull'orlo del precipizio, ok? Ovvero è difficile perdere questo livello Ma lo sapevamo, ne avevamo già parlato Ci stiamo comunque provando a ritestare i 62 bassi, ok? 62 in basso vuol dire che tra poco, secondo me, potrebbe essere la volta decisiva Se il mercato ci mantiene, ok? In queste condizioni di poter finalmente approcciare queste aree qua Dei 60% Il che sarebbe estremamente bull per tutto il comparto alz Quindi molto 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 bene le alz Cosa è successo su Bitcoin però? Nella notte, beh, è successo quello che era lo scenario migliore che potevamo aspettarci Ovvero un ritest dei livelli massimi che abbiamo raggiunto In quella giornata di piena euforia dovuta ai tweet di Elon Musk Un sacco di cose che sono successe quel giorno Appunto siamo andati a ritestarli In una maniera veramente tanto aggressiva Perché se voi considerate queste che sono candele giornaliere Dopo questo riassorbimento che sarebbe stata Se vi ricordate dalla mia analisi Una candela ovviamente bare Perché una candela di questo tipo Con una shadow così alta Ci fa capire che su tutto questo livello qua C'è tanta tanta offerta Ok? C'è tanta tanta offerta Ecco che mi sarei aspettato una lateralizzazione un pochino più pronunciata Per poi riportarci up Però avevamo detto anche che nelle condizioni in cui eravamo Era una candela comunque estremamente importante Estremamente bull Perché ha dato una reaction alla price move Che abbiamo avuto in questi ultimi giorni Veramente importante Ci ha tolto dal problema dei 30k Siamo riusciti addirittura a consolidare due giorni Tre per poi tornare in breakout Quindi molto bene Stiamo avendo continuazione Sì, l'unica cosa che vi metto in guardia sono i volumi Attenzione perché non stiamo avendo volumi altissimi su bitcoin Ok? Giornalieri Avrei preferito vedere volumi più ampi Però è ovvio che se vedete appunto questa candela qua Aveva veramente un qualcosa di eccezionale Un po' come questo dump che vedete qui dell'11 gennaio Appunto era una candela abbastanza euforica Quindi ci sta Però dobbiamo continuare ad avere dei volumi Volumi sempre fondamentali Per quanto riguarda invece Ether Vedete che siamo andati in Blue Sky Breakout E attenzione perché voglio fare due considerazioni Sia su Ether che su DOT Se andiamo a fare, a tracciare un Fibonacci Ok? Da questo breakout Facciamo All'I Ok? Vedete che fondamentalmente questo ritracciamento su Ethereum Un po' è una potenziale bull flag sul giornaliero Ok? Quindi attenzione non cadetemi fregati dal mercato Perché vedete questi piccoli ritracciamenti Sono ritracciamenti salutari Sani Vedete che anche i volumi non sono altissimi in questo momento Vabbè che siamo sul giornaliero La giornata è iniziata non da tanto Quindi ci può stare Però attenzione perché finché ci manteniamo sopra lo 0,38 Ok? È un po' una potenziale bull flag Quindi possiamo tranquillamente continuare a rialzo Su Ethereum Ma l'avevamo detto Se riusciamo a stoppare fuori Tutti questi short posizionati qui Ok? Che ci hanno ributtato in giù Ok? Più e più volte Arriviamo con volumi Ecco che riusciamo veramente ad andare in price discovery E possiamo continuare a rialzo E possiamo continuare tranquillamente senza limiti Non abbiamo particolari limiti superiori Quindi non datevi degli step perché non ci sono attualmente Potete fare un ritracciamento fibonacci sui prossimi appunto livelli a rialzo Però secondo me trovano un po' il tempo che trovano È più interessante valutarlo sul momento Ok? Capire dove effettivamente ci sarà un'inversione Dove ci sarà un rallentamento Ok? Della domanda su Ethereum o su le coin che state valutando Perché appunto Se no diventa un po' sparare a caso Stessa cosa appunto Intanto mi era variato il grafico su dot Vedete che è molto molto parallelo Molto molto simile più che parallelo Vedete queste candele molto forti Con una potenziale bull flag uguale su dot Forse ancora più pronunciata Perché vedete appunto come 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 Lo prendiamo da qua a qua Siamo proprio perfettamente sullo 0.23 Quindi super sano È ovvio che qua vi ho fatto una shadow molto importante State attenti perché ricordatevi Che queste shadow qua A volte servono anche per liquidare posizioni long Quindi estremamente attenti A non farvi fregare Anche perché dot Volevo farvelo vedere anche sull'orario Vedete che è tutto successo Nel giro di due ore Ok? Dump e riassorbimento molto aggressivo E queste cose qua Ci sono quando Quando c'è parecchia volatilità nell'aria Abbiamo una variazione di un 15% Il che sono parecchi parecchi soldi Ok? Quindi estrema attenzione Band Cosa sta facendo Band? Band anche qua Vediamo una week importante State attenti sempre Perché i movimenti sono molto forti Più saliamo Più avremo volatilità Più abbiamo volatilità Più c'è rischio nel fare trade Con leve Per questo vi dico State estremamente attenti alle leve Band non sta facendo altro Che andare in consolidazione Su un livello per lui Estremamente importante Dei 12 dollari Abbiamo provato a romperlo Siamo stati riassorbiti Stiamo cercando di valutare Di rimanere un po' Forti Appunto Cercare di consolidare Abbastanza Per fare un potenziale Leg up E tornare in oltre mai A mio avviso Però come dico sempre Non sono consigli finanziari Magari stasera Lo guardiamo un po' meglio Insieme a voi Anche con dei dati in più Che avremo ovviamente Questa sera Però appunto Prendete sempre queste idee Come un'integrazione Delle vostre Non mi stufferò mai Di ripetervelo Perché non vi voglio vedere Fare copia e incolla Di quello che vi dico Perché appunto Io posso sbagliare Non ho la sfera di cristallo Quello che vi do È una mia view di mercato Che ovviamente È a puro scopo Illustrativo E puro scopo Formativo Per voi Per riuscire Ad aiutarvi Ad avere un'analisi vostra Perché L'obiettivo è avere Che siate Scusate L'obiettivo è che siate voi Ad avere un'analisi vostra E non fare copia e incolla Anche perché se poi Non ci sono io Non c'è qualche youtuber Che seguite Ovviamente Da soli poi Siete nel panico Quindi è a scopo Formativo per voi Volevo farvi notare Anche una coin Che stiamo Seguendo Che avevamo dato A un dollaro e cinquanta Un dollaro e trenta Una cosa del genere Che è ONX Finance Molto bene Sta outperformando Molto 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 bene Bitcoin Quindi Ottimo Per chi è entrato Abbiamo avuto Le letture online Nelle ultime 24 ore Di 5.79 C'è molta volatilità Su questa coin Perché Stiamo andando fuori Dei prodotti nuovi Prodotti sintetici Ok Sulla loro piattaforma Lo potete vedere Appunto da qua Dal launch up Da qui Voi vedete Che appunto C'è questi nuovi prodotti Che sono Lending E sono Lonsynthetics Che presto Saranno rilasciati Da quello che ho capito Sono già in fase Di audit E appena Appunto L'audit Sarà terminato Saranno lanciati Sapete cosa penso Di questa coin Una coin Molto promettente Ma altamente Comunque rischiosa Perché ricordatevi Che più C'è potenziale Up C'è anche potenziale Down Quindi sempre I soldi Che potete perdere Su queste tipologie Di progetti Però sono quelle Coin scommessa Che mi piace Condividere con voi Che ci piace Condividere con voi Nei gruppi telegram Di cui trovate Qui sotto il link In descrizione Ve le diamo in live Solitamente E poi ci piace Monitorarle con voi Un po' Vedere come vanno Però appunto Sempre con testa E sempre col capitale Misurato Andatevi a vedere Se non avete visto Il video sulla gestione Del wallet Che è molto importante Per capire Come allocare Correttamente Le vostre posizioni Anche a salvaguarda Del vostro capitale Che è la cosa fondamentale Quando andate a investire Non siete dei gambler Ok Ricordatevi Non siete dei gambler Io ragazzi Direi che mi fermo qua Anche perché poi Stasera andremo Un po' più nel dettaglio Mi piace rispondere Alle vostre domande Vedremo un po' Come si è evoluta La situazione In queste ore Se non l'avete ancora fatto Invito a iscrivervi al canale Mettere un bel mi piace Attivare la campanella Le notifiche Perché sono con tutti Time sensitive Ed è giusto Vederli subito Già vederli dopo qualche ora Può essere meno Ovviamente produttivo Ok E commentate con le vostre domande Mi fa piacere rispondere a tutti Mi aiutate tanto Tanto con l'algoritmo Grazie ancora E ci vediamo Questa sera in live Ore 20 e 30 Su Twitch Ciao ragazzi E buon pomeriggio